Dati abbastanza recenti, frutto di studi specifici, ci dicono che c'è un incremento in termini di visite a Roma, la stima è quella di arrivare alla fine anno con un totale di almeno 15 milioni di visite annue. Come si spiega questo fenomeno e come Roma riesce ad attrarre sempre di più i visitatori? Per l'esattezza oltre 15 milioni e 100 mila saranno i turisti e il 15 milionesimo arriva la notte tra il 27 e il 28 di dicembre. Come si spiega, Roma a parte che nel tempo si è sempre venduta da sola, ma questa volta è un po' diverso. Gli operatori del turismo stanno facendo bene, gli alberghi e le strutture ricettive si stanno riqualificando e l'attrattiva di Roma aumenta, aumenta l'offerta, ci sono molti musei, vi ricordo 200 musei, 200 siti archeologici e il 5 stelle e il 4 stelle stanno tirando come albergatori e come strutture ricettive alla grande. Quindi la spiegazione è nella qualità dell'offerta, c'è anche un pezzo di spiegazione che riguarda la sicurezza in realtà che al di là di alcune rappresentazioni fantasiose, in realtà Roma è molto sicura per i turisti. Di quattro persone che vengono a visitare Roma, almeno una nel giro di cinque anni conta di ritornare. Quanto è importante per voi questo dato e soprattutto ci sono immagini perché aumenti la percentuale? Assolutamente sì, ci impone due cose. Primo, il fatto che quella persona su quattro ritorni dobbiamo fargli vedere cose che non abbia visto la prima volta e quindi coniugare bene l'offerta e declinarla per la seconda visita e quindi aiutare i repeater a avere esperienze nuove nella seconda visita. C'è margine per migliorare perché vorremmo che 4 su 4 tornassero, perché Roma ha tanto da offrire e lo ha per n.mila visite.